Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati per la prima volta in questo 2024 alla nostra serie Imperatores. Imperatores è la serie con cui stiamo raccontando la storia dell'impero romano attraverso ovviamente i suoi imperatori, serie che ha ormai fatto finire la sua epoca classica ed è entrata nel Medioevo. Anzi, con l'imperatore di oggi Anastasio addirittura arriveremo all'inizio del VI secolo, secolo che è famoso per essere il secolo di Giustiniano, dell'ultimo tentativo di restaurazio imperi, ma un secolo che inizia con un imperatore, vi posso dire, senza il quale probabilmente buona parte di ciò che provò a fare Giustiniano non sarebbe mai stato possibile, cioè appunto Anastasio. È un imperatore abbastanza sconosciuto, diciamolo chiaramente, ma un imperatore che come vedremo avrà un regno molto interessante e pieno di eventi. Un regno importante dal punto di vista religioso, importante dal punto di vista economico e importante anche dal punto di vista militare, perché dopo tanto tempo tornerà ad affacciarsi uno dei nemici storici di Roma, cioè i Sasaniti. Insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta, come al solito partiremo cercando di capire chi sia questo Anastasio e come sia arrivato al trono, perché come sta diventando tradizione nelle ultime puntate, non ha praticamente nessun legame con i suoi predecessori, e quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, o iscrivetevi al nostro canale WhatsApp, trovate il link in descrizione, sigla di Imperatores, e poi iniziamo a raccontare. Come è successo per tanti imperatori prima di lui, anche di Anastasio, in realtà sappiamo pochissimo prima che diventasse imperatore, sappiamo giusto che dovrebbe essere nato intorno al 430 d.C. a Durazzo, o comunque in quella zona. C'è una differenza però rispetto ad altri imperatori sbucati dal nulla che abbiamo già raccontato in passato e che racconteremo in futuro. A differenza di molti di loro che avevano fatto carriera all'interno dell'esercito e che erano diventati imperatori, diciamo per meriti militari, nel caso di Anastasio tutto questo non era vero. Anzi, per quanto ne sappiamo, la sua carriera era avvenuta all'interno dell'amministrazione imperiale, di cui aveva fatto parte, di cui aveva scalato varie posizioni, fino a diventare un silenziarius. Che cos'era un silenziarius? Beh, letteralmente era colui che si occupava di mantenere il silenzio durante i momenti in cui l'imperatore incontrava dignitari, ambasciatori e così via. Ovviamente non era solo quello il suo compito, ma era un personaggio importantissimo all'interno della corte perché faceva proprio da contatto tra coloro che volevano parlare con l'imperatore e l'imperatore stesso, perché era colui che si occupava di dirigere questi momenti di incontro, era colui che decideva chi dovesse parlare prima o dopo e ovviamente tutto questo gli dava molto potere e, perché no, anche un bel ritorno economico. Ma perché Anastasio, che peraltro, pensate, aveva una particolarità, aveva un'eterocromia, cioè aveva gli occhi di due colori diversi, tanto che è soprannominato anche Anastasio Dicoro, cioè appunto con gli occhi di due colori diversi, uno azzurro e uno scuro. Non sappiamo esattamente il colore, ma uno azzurro, uno scuro. Bene, come fece Anastasio a diventare imperatore? Dato che ve lo dico subito, di parentene con gli imperatori precedenti, assolutamente neanche l'ombra. Bene, a sceglierlo pare che fosse stata Ariadne, cioè la vedova di Zenone dell'imperatore appena morto, nonché la figlia di Leone I, imperatore precedente, con lei che a tutti gli effetti aveva dato la possibilità già a Zenone di diventare imperatore. Secondo quanto si racconta, quando nel 491 Zenone morì, Ariadne decise di andare nell'ippodromo. Perché nell'ippodromo? Beh, perché, l'abbiamo già visto nelle scorse puntate, questo era un luogo importantissimo, un luogo in cui l'imperatore o le imperatrici potevano recarsi per poter parlare con tutto il popolo, che, diviso dal punto di vista politico, nelle varie squadre che si contendevano i titoli all'interno dell'ippodromo, ovviamente avanzavano le loro richieste. Era un punto all'interno della città in cui l'imperatore poteva rivolgersi a tantissime persone tutte insieme, perché era anche l'edificio che ne poteva ovviamente accogliere di più. Bene, quando Zenone morì, Ariadne si recò proprio all'ippodromo e pare che la popolazione avesse iniziato a chiedere a lei di scegliere un nuovo imperatore, un imperatore che fosse al contempo ortodosso, cioè che fosse di credo calcedoniano, così come la maggior parte della popolazione di Costantinopoli, di tutto questo abbiamo parlato nelle scorse puntate, andatevelo a recuperare, e che fosse anche romano. Ora voi direte, ma come, Zenone non era romano? Sì, Zenone era romano, ma faceva parte del popolo degli Isaurici, abbiamo parlato anche questo nelle scorse puntate, e nonostante gli Isaurici abitassero all'interno dell'impero e fossero parte dell'impero da secoli, erano visti come dei barbari proprio a Costantinopoli. Quindi quello che chiedeva la folla era un imperatore che seguisse il credo ortodosso fosse calcedoniano e che fosse romano, non un imperatore impelagato in altre eresie, un po' come era stato Zenone, che aveva emanato l'Enoticon, che aveva messo da parte Calcedonia e in qualche modo aveva cercato di riportare la pace all'interno dell'impero e ovviamente appunto che non fosse un barbaro, non fosse uno straniero. E così Ariadne aveva proprio scelto Anastasio. Pare, dopo essersi messo d'accordo con il senato di Costantinopoli, con i grandi proprietari terrieri, che secondo alcuni erano intervenuti perché molto preoccupati della gestione economica dell'impero, perché Zenone aveva sicuramente lasciato un impero finalmente in pace dal punto di vista interno, abbastanza stabilizzato anche dal punto di vista religioso, ma aveva anche depauperato in maniera pesantissima le casse e quindi c'era bisogno di qualcuno che ne capisse di economia. Bene, forse d'accordo con tutte queste personalità decisero di scegliere Anastasio. Anastasio il quale però bisogna dire se era sì un uomo romano che quindi rispondeva a quella che era la richiesta della folla da questo punto di vista, era anche dal punto di vista religioso sicuramente non ortodosso, anzi era addirittura monofisita. La cosa è abbastanza importante, ci torneremo poi nel corso della narrazione, è a tutti gli effetti un imperatore che nonostante il momento in cui salì al potere fu obbligato a firmare un documento in cui dichiarava di non essere monofisita, ma di mettere da parte questo suo credo e di accettare il credo ortodosso dell'impero, in realtà per tutta la sua vita mantenne questa sua posizione e questo gli creerà parecchi problemi all'interno dell'impero, a cominciare dai primi che gli vennero creati dall'allora patriarca Eufemio, patriarca di Costantinopoli Eufemio, con il quale peraltro c'erano già stati scontri in passato, anche perché prima di diventare imperatore pare che Anastasio avesse un po' accarezzato l'idea di fare carriera all'interno del mondo religioso, diventare vescovo, patriarca e la cosa gli era stata pari impedita proprio da Eufemio che temeva il suo essere monofisita. Anche di Anastasio, così come dei predecessori, sappiamo come andò la cerimonia di incoronazione. Qualcuno ci ha chiesto come mai conosciamo tutte queste cerimonie di incoronazione? Beh, perché abbiamo un documento interessantissimo del X secolo, quindi abbastanza posteriore, scritto, pensate un po', da un altro imperatore, Costantino VII, il quale scrisse un libro chiamato il De Cerimonis, in cui descrivette molte di queste cerimonie di incoronazione, tra cui proprio quella di Anastasio. Nel caso di Anastasio, rispetto ai suoi predecessori, le cose furono un po' diverse. Prima di tutto, una volta che venne scelto, si recò all'interno della Corte, dove venne raggiunto da tutti gli altri notabili della Corte, dai senatori, da cui, da una parte, ricevette il giuramento di fedeltà, dall'altra, lui stesso promise di mettere da parte tutti i rancori che si erano accumulati in quegli anni e di fare tabula rasa, insomma, di non utilizzare il nuovo potere per abbattere coloro che gli si erano posti fino a quel momento. Dopodiché si recò nell'ippodromo, dove venne prima sollevato dai soldati sullo scudo, una tradizione che ormai si stava diffondendo all'interno dell'impero, dopodiché venne acclamato dal popolo. Alla fine, accompagnato dal patriarca Eufemio, con cui teoricamente avevano fatto pace, poi vedremo che era altandone così, si recò in Santa Sofia, dove i due pregarono insieme e alla fine il patriarca gli mise la corona in capo e proprio con quella corona parve di fronte al popolo finalmente imperatore. Per garantire in toto questa sua salita al potere, pochi mesi dopo Ariadne lo sposò, a tutti gli effetti legandolo così alla dinastia di Leone, tanto che Anastasio è considerato proprio l'ultimo imperatore di questa dinastia, anche se, ripeto, dal punto di vista effettivo di parentela non c'era nessunissima parentela. Peraltro il matrimonio tra i due fu a tutti gli effetti solo un matrimonio di facciata, Ariadne morirà prima del marito e i due probabilmente non consumarono mai il matrimonio, anche perché erano entrambi molto avanti d'età. Anastasio aveva probabilmente più di 60 anni al momento in cui diventò imperatore. Anastasio, peraltro, fino a quel momento non si sa se fosse stato sposato, sicuramente non lo era più in quel momento, ma si sa per certo che non aveva figli che gli fossero sopravvissuti, tanto che fin dall'inizio si iniziò a pensare che alla sua morte, e dopo tutto, ripeto, non era così giovane per l'epoca e poteva arrivare in ogni momento, alla sua morte sarebbe potuto succedergli uno dei suoi tre nipoti, che si chiamavano Ipazio, Pompeo e Probo, e che erano i figli della sorella e del fratello, che fin dall'inizio lui portò con sé a corte, alcuni di loro li farà addirittura consoli, insomma cercherà di preparare loro la strada affinché eventualmente potessero succedergli. Poi, come vedremo, le cose non andranno esattamente così, ma ne riparleremo verso la fine. Ad ogni modo, la salita al potere di Anastasio non venne proprio salutata da tutta la folla di Costantinopoli con approvazione. Innanzitutto per la motivazione religiosa, come vi ho detto, era un monofisita e non tutti credettero la sua conversione, e in effetti avevano ragione. Inoltre, alcuni temevano che, per evitare scontri con coloro che a tutti gli effetti avevano detenuto il potere negli ultimi anni, cioè gli Saurici, potesse in qualche modo accordarsi con loro. In realtà, Anastasio seguirà una via diversa, perché proprio per cercare l'accordo con il popolo inizierà a mettere da parte gli Saurici, che verranno allontanati da Costantinopoli, bisogna dire forse con poca decisione, tanto che poterono ritirarsi senza problemi, portando con sé ricchezze e truppe, e nel 492, privati di ogni potere, gli Saurici decisero di ribellarsi. A questo punto, Anastasio, forte ovviamente dell'approvazione del popolo di Costantinopoli, decise di mandare un esercito ad affrontarli. Un esercito che riuscì a sconfiggere in una battaglia campale già nel 493 d.C., ma che non riuscì per molti anni ad aver ragione della loro resistenza, che continuò sulle montagne dell'Anatolia centro-meridionale, appunto in Isauria, ancora fino al 498, quando finalmente le armate romane riuscirono ad aver ragione della loro resistenza, riuscirono a catturarne i capi, ne giustiziarono alcuni sul posto, mandando le teste a Costantinopoli, altri invece vennero catturati, addirittura fino in Egitto, dove erano scappati, e mandati a Costantinopoli così, che potessero sfilare di fronte all'imperatore, ovviamente per poi essere giustiziati. Questa vittoria, che comunque comportò parecchi anni di scontri, avete visto, terminò nel 498, fu però anche l'occasione per permettere all'imperatore, o meglio, a coloro che cercavano l'approvazione dell'imperatore, di creare una qualche forma di discendenza mitica, che potesse in qualche modo giustificare la presa di potere di Anastasio. E pensate che, sfruttando il fatto che il padre di Anastasio si chiamasse Pompeo, qualcuno dice che anche Anastasio avesse come secondo nome Pompeo, ma la cosa non è certa, ma sfruttando il fatto che il padre di Anastasio pare si chiamasse Pompeo, decisero di creare una lontanissima discendenza con Pompeo Magno. E per riuscire a fare un paragone, se ci fate caso sono passati cinque secoli, cioè è passato veramente tantissimo tempo, si disse che la vittoria di Anastasio, che non aveva guidato personalmente le truppe, attenzione, ma comunque la vittoria si poteva dare a lui, la vittoria di Anastasio contro gli Saurici era paragonabile a quella di Pompeo contro i Pirati. Un paragone e una strana linea di successione che in qualche modo dava un po' di splendore alla casata di Anastasio. Casata, che ripeto, di splendore, probabilmente non ne aveva assolutamente niente. Al netto di questa rivolta, forse Anastasio avrebbe voluto un impero di pace, un impero per potersi dedicare a quello che era il suo pensiero principale, cioè rimettere in piedi le finanze romane, ne parleremo dopo. In realtà il suo fu tutto fuorché un impero di pace. Innanzitutto, nei Balcani la situazione fu fin dall'inizio molto difficile, perché? Perché il suo predecessore era sì riuscito a sbarazzarsi di un problema per l'impero, cioè dei goti, la maggior parte dei quali aveva seguito Teodorico in Italia e qui si era andato a stabilire, ma privandosi dei goti, che erano sì una spina nel fianco dell'impero, ma si occupavano anche di difendere i Balcani, aveva lasciato l'intera penisola praticamente libera, con il risultato che durante tutto il suo regno Unni e Bulgari più volte entrarono all'interno dell'impero e razziarono le province balcaniche, che solo con grande difficoltà ogni tanto riuscivano a respingere le invasioni. Aggiungiamoci, oltre a questo, che i problemi religiosi tra i Balcani che erano fortemente calcedoniani e appunto l'imperatore invece monofisita porteranno progressivamente alcune di queste province a iniziare a guardare più occidente, a guardare più verso l'Italia, l'Italia governata da Teodorico che era sì ariano ma non si era messo in particolare scontro con il Papa con il risultato che una parte dei Balcani inizierà quasi ad uscire dall'orbita romana. Poi non sarà così, lo vedremo meglio nelle prossime puntate ma sicuramente in questo periodo un po' questo rischio c'era. Per poter difendere Costantinopoli che ovviamente era il punto più importante dell'impero e bisognava difenderlo da queste razzie ora che non c'erano più abbastanza truppe per fare da muro da protezione si decise di costruire un vero e proprio muro il cosiddetto muro o le mura anastasiane. In realtà questo muro che è costruito a circa una sessantina di chilometri a ovest di Costantinopoli ed è lungo pensate 56 chilometri era lungo pensate 56 chilometri questo muro secondo alcuni era già stato costruito all'epoca di Leone o all'epoca di Zenone non è ben chiaro ma quel che è certo è che Anastasio lo ampliò e lo fece completare. Sulla carta era un muro importantissimo era più o meno costruito come il ballo di Adriano per intenderci quindi questo muro di protezione intervallato da forti zone che dovevano servire a fermare un'eventuale invasione e aveva una struttura che esattamente come quella dei muri che l'avevano preceduto di tre secoli avrebbe potuto reggere a un eventuale attacco contro Costantinopoli peraltro sfruttando un punto in cui la penisola della traccia è particolarmente stretta. Il problema è che a differenza dei muri appunto che lo avevano preceduto era stato costruito in un'epoca in cui non c'erano più abbastanza truppe per poterlo reggere e difatti questo muro anastasiano in assenza di abbastanza uomini per poterlo difendere sarà più volte superato da varie invasioni e progressivamente cadrà completamente in disuso venendo poi trasformato in una cava di pietra come succedeva spesso ai monumenti più antichi e oggi ne rimangono veramente pochissime parti che possono potete andare a osservare se andate in Turchia però c'è da dire che questo muro è in qualche modo un simbolo che ci dimostra quello che un tempo ci raccontavano in maniera diversa per tanto tempo si disse nell'ultima fase dell'impero romano d'occidente poi con il passaggio a Costantinopoli i romani persero le loro capacità di edilizia le loro capacità di costruire queste grandi opere bene il muro anastasiano è un po' la dimostrazione che tutto questo non è vero così come non lo è Santa Sofia se vogliamo le capacità c'erano ancora il problema era che mancavano il denaro e mancavano gli uomini per poterlo fare ma quando ci si mettevano costruivano ancora delle opere assolutamente meravigliose da occidente però al netto di questi attacchi di queste razzie grossi problemi non ce ne furono anche perché Anastasio per tutto il suo impero si guardò bene da entrare in conflitto con Teodorico che governava in Italia ufficialmente come patrizio dell'impero quindi riconoscendo il dominio dell'imperatore di Costantinopoli ma a tutti gli effetti in piena autonomia ma il nostro Anastasio non fece niente per mettergli bastoni tra le ruote molti più problemi invece ci furono in Oriente dove come vi dicevo nell'introduzione nel 498 d.C. un antico nemico di Roma tornò a farsi sentire cioè i Sasanidi ora se avete seguito la nostra storia di Imperatores attraverso tutte queste puntate di Sasanidi forse è da un po' che non ne sentite parlare in effetti pensate che quando riscoppiò la guerra guerra chiamate molto spesso guerra anastasiana erano quasi 80 anni che Sasanidi e Romani non si scontravano e se dobbiamo andare a cercare l'ultima guerra un po' più seria non solo degli scontri di confine dobbiamo andare indietro di più di 100 anni perché questo? beh perché negli ultimi 100 anni entrambi gli imperi avevano avuto altro a cui pensare l'impero romano era stato occupato ad occuparsi dei barbari che sciamavano all'interno dell'impero in occidente e nei Balcani ma anche l'impero Sasanide nell'ultimo secolo aveva avuto tantissimi problemi pensate causati dagli unni non gli stessi unni che erano arrivati in occidente ma un'altra parte di questo popolo i cosiddetti unni bianchi o eftaliti che erano rimasti in oriente e che scendendo giù dall'Asia centrale o dal Caucasus avevano più volte attaccato l'impero Sasanide tanto che addirittura talvolta le guarnigioni romane e quelle Sasanide nella zona dell'Armenia avevano combattuto insieme per provare a respingerli gli unni bianchi avevano rappresentato un problema gigantesco per i Sasanidi tanto che addirittura l'impero Sasanide per alcuni anni era stato tributario degli unni che ne erano stati quasi dei signori e quando nel 498 iniziò lo scontro l'impero Sasanide aveva in effetti pochissimo denaro la causa della guerra in effetti fu economica perché nel 498 il re dei re Sasanidi Cavadde I tornò al potere dico tornò perché lo era già stato era stato deposto e nel 498 appunto tornò a prendere il potere e quando divenne sovrano si trovò un impero con le casse vuote dato che c'era una qualche forma di accordo con i romani chiese proprio all'imperatore Anastasio di poter avere del denaro che gli permettesse di rimettere in piedi l'esercito rimettere in piedi lo stato ma Anastasio che venne in questo consigliato dalla corte decise di rifiutargli qualunque qualunque aiuto e Cavadde ovviamente se la legò al dito dicendo che i romani approfittavano del fatto che i Sasanidi li difendessero o meglio difendessero il loro fronte orientale dalle invasioni ma non erano pronti a contribuire il risultato fu che i Sasanidi decisero di scendere in guerra contro Roma e lanciarono due attacchi il primo da nord nella nell'Anatolia orientale nell'Armenia nella parte un tempo parte dell'Armenia romana andando a prendere la città di Teodosiopoli che sarebbe l'attuale Erzurum e un altro attacco invece da sud che partendo dalla fortezza un tempo romana ora invece Sasanide di Nisibis attaccò la vicina città di Amida che era la fortezza più avanzata dei romani in questi attacchi i Sasanidi furono favoriti dal fatto che all'ultima guerra quella fatta all'epoca di Teodosio II i romani si erano impegnati per avere la pace a non fortificare più i confini e questo permise i Sasanidi di avanzare Anastasio mandò un primo esercito per cercare di fermarli un esercito comandato dal proprio nipote Ipazio il quale però pare che fosse un pessimo comandante e nonostante fosse accompagnato ad altri generali diede una pessima prova di sé venendo sconfitto a questo punto Anastasio richiamò Ipazio fece arrivare altre truppe nella zona e quelle truppe lentamente riuscirono a ricacciare indietro i Sasanidi a fermare però il conflitto furono ancora una volta gli uni che invasero approfittando ovviamente del momento di confusione i territori Sasanidi provenienti dal Caucaso e questo spinse Romani Sasanidi a giungere ad un accordo di pace che permettesse ai Sasanidi di respingere gli uni cosa che ovviamente interessava anche ai Romani che sapevano che nel caso sarebbero stati i prossimi a essere invasi e porterà i due imperi a siglare una pace questa pace fu probabilmente bianca dal punto di vista territoriale cioè non ci fu passaggio di territorio ma pare che i Romani versarono del denaro ai Sasanidi per poter tornare in pace quello che è certo è che Anastasio che non voleva più farsi prendere di sorpresa violando quelli che erano stati gli accordi firmati da Teodosio II iniziò a far fortificare il confine delle fortezze che come vedremo nelle prossime puntate verranno sfruttate poi come scusa dai Sasanidi per tornare in guerra ma ne parleremo in futuro per il resto del regno di Anastasio scontri in Oriente non ve ne furono come abbiamo detto però il principale pensiero di Anastasio fu quello economico e bisogna dire che il suo impero da questo punto di vista fu molto positivo per l'impero romano perché rispetto a quando salì al potere riuscì alla sua morte a lasciare un impero che non solo aveva molto denaro in cassa pare che avesse un tesoro accumulato pari a tre anni di versamenti fiscali dell'impero ma soprattutto che aveva una struttura dal punto di vista fiscale molto più funzionante una delle prime cose che fece fu una riforma monetaria iniziò a far cognare in grande quantità delle monete monete di rame dei follis monete di rame che erano molto utilizzati per i pagamenti comuni quelli che faceva la gente monete di rame che però nel corso del tempo avevano progressivamente perso di valore rendendo così difficili gli scambi queste monete di rame pare che fossero state cognate utilizzando praticamente qualunque cosa a cominciare dalle statue pare che fossero state sciolte delle statue fuse delle statue proprio per poter fare delle monete non solo ma questi follis iniziarono ad avere un valore fisso che non doveva variare troppo nel tempo e che venne agganciato al valore delle monete d'oro in modo da garantire un cambio il più possibile fisso che mantenesse stabile l'economia per cercare di far ripartire l'economia favorendo soprattutto in questo i ceti mercantili andò anche ad eliminare una tassa il crisargiron spero di averlo pronunciato bene che era una tassa che era stata decisa pensata addirittura da costantino che andava a colpire gli scambi commerciali una tassa peraltro pochissimo apprezzata in oriente soprattutto dalla borghesia e che venne eliminata in questo modo permettendo di rimettere in moto l'economia come fare però per recuperare quel denaro che senza crisargiron non arrivava più nelle casse dello stato bene decise di imporre che il pagamento della nona cioè di quelle quelle risorse quelle tasse che i proprietari terrieri dovevano pagare fosse fatto strettamente in denaro ora la cosa era importante perché ormai da parecchio tempo i proprietari terrieri i contadini se così vogliamo dire potevano pagare le loro tasse sia in denaro che utilizzando quello che producevano che fosse grano che fosse carne e così via la cosa ovviamente avvantaggiava molto questi grandi proprietari terrieri che sfruttando le variazioni della moneta potevano in questo modo pagare molto meno di quello che avrebbero dovuto utilizzando i loro prodotti nel momento in cui Anastasio gli impose invece di pagare la nona utilizzando il denaro questo permise all'impero di incamerare grandi quantità di denaro e in questo modo di rimettere a posto i conti anche senza la tassa sulle transazioni sul commercio sulle transazioni finanziarie inoltre questo anche importante andò a riformare quello che era il sistema di riscossione dei tributi togliendo potere alle singole regioni e dando invece potere a degli amministratori se vogliamo imperiali che venivano mandati alle scuote dei tributi nelle varie zone in questo mondo riducendo quella che possiamo dire era l'evasione fiscale o meglio riducendo il denaro che a Costantinopoli effettivamente non arrivava tutto questo peraltro venne fatto attraverso una serie di anni e con tutto una serie di correttivi ad esempio qualcuno gli disse se tu obblighi i proprietari terrieri a pagare più tasse questi semplicemente aumenteranno il costo della loro produzione del grano della carne e così via questo provocherà inflazione e quindi torneremo al punto di partenza per evitarlo il nostro fece esattamente quello che doveva fare cioè impose dei prezzi fissi che in questo modo obbligarono i proprietari terrieri a continuare a vendere agli stessi prezzi e questo seppur in maniera un po' artificiale stabilizzò l'economia e appunto fece prosperare l'impero che sarà consegnato ai suoi successori in condizioni economiche decisamente migliori inutile dire che queste sue scelte economiche non raccorsero esattamente il favore di tutti ma si vanno a incastrare per spiegare il perché poi vi furono anche delle rivolte con le sue scelte dal punto di vista religioso ora l'abbiamo detto all'inizio il nostro Anastasio era monofisita e quando salì al trono si trovò ad essere come dire non proprio apprezzato dal patriarca Eufemio il quale già non lo apprezzava prima che diventasse imperatore per il suo credo e che per di più lo aveva obbligato a firmare il documento in cui disconosceva questa sua fede bene Eufemio che pare fosse un calcedoniano abbastanza di ferro tanto di non averne anche apprezzato troppo l'enoticon che era stato emanato da Zenone Eufemio fece però un passo falso perché come si racconta durante la guerra con gli Saurici ricevette una confidenza proprio dagli imperatore che nel 495 gli disse di essere stanco di questa guerra e l'andò a riferire al genero di uno dei comandanti ribelli genero che però si trovava ancora a Costantinopoli e il quale invece di andarlo a riferire o far arrivare la voce al proprio suocero l'andò a riferire all'imperatore che accusando Eufemio di essere un traditore lo depose dalla sua carica di patriarca e lo sostitui con un altro patriarca inutile dire che la cosa scatenò parecchie proteste a Costantinopoli perché molti videro in questa manovra dell'imperatore un modo per sbarazzarsi di un oppositore peraltro Eufemio pare che fosse molto apprezzato e questo forse salvò la testa Eufemio che venne mandato in Anatolia dove rimase per tantissimi anni addirittura considerato ancora da molti come l'unico vero patriarca di Costantinopoli in realtà forse per evitare problemi con la popolazione Anastasio non lo sostituì con un monofisita ma lo sostituì con un altro patriarca Macedonio II anche lui calcedoniano il quale accettò l'enoticon e questo questo sì ma si rifiutò di condannare il concilio di Calcedonia e ovviamente si rifiutò di avvicinarsi ai monofisiti la cosa progressivamente raffreddò i rapporti anche tra Macedonio II e l'imperatore e i rapporti peggiorarono ancora di più quando l'imperatore iniziò a far arrivare dei noti rappresentanti del credo monofisita a Costantinopoli tra questi il più importante nonché uno dei più noti monofisiti dell'epoca fu Severo di Antiochia il quale venne a Costantinopoli discusse a lungo con Macedonio II scatenò probabilmente anche degli scontri all'interno della popolazione e alla fine venne mandato a fare il vescovo di Antiochia proprio grazie all'appoggio dello stesso Anastasio il quale peraltro ad un certo punto stanco anche di questo nuovo patriarca prese e spedì anche lui in Anatolia a fare compagnia ad Eufemio insomma dal punto di vista religioso a Costantinopoli la situazione non era esattamente molto facile non era molto facile neanche il rapporto tra l'imperatore e il papa di Roma con cui Anastasio mantenne quello scisma che era stato iniziato dai suoi predecessori scisma che separava teoricamente le due chiese era le due i due il patriarca di Costantinopoli e il papa si erano rispettivamente scomunicati e che vide i vari papi di Roma opporsi proprio al potere di Anastasio a cominciare da papa Gelasio che era il potere nei primi anni di potere di Anastasio il quale più volte mandò delle lettere all'imperatore dicendogli chiaramente che sulle cose civili l'imperatore aveva tutto il potere del mondo ma sulle cose religiose doveva piegarsi al papa stesso al patriarca e a coloro che guidavano la chiesa una cosa che ovviamente l'imperatore non aveva nessuna intenzione di farsi sentire ma di farsi dire una frase che però sentiremo rimbombare per tantissimo tempo nel corso degli anni che dopo tutto in qualche modo sembra rimandare a certe cose che si trovano nel Vangelo ad ogni modo Anastasio alla morte di Gelasio cercò in tutti i modi di influenzare l'elezione del papa che all'epoca veniva scelto ovviamente a Roma e che doveva in qualche modo portare al potere un papa più vicino a lui in effetti il suo successore cioè Anastasio II fu un papa che pur senza schierarsi apertamente dalla parte dell'imperatore cercò in ogni modo di evitare lo scontro cosa che gli creò non pochi problemi con i vescovi occidentali che erano fermamente calcedoniani e in opposizione ovviamente all'enoticon e quando nel 498 anche Anastasio II e lo nome è lo stesso non è un errore si chiamava così anche il papa morì il re per succedegli iniziò una vera e propria lotta tra il candidato dei vescovi italiani che si chiamava Simmaco e invece un candidato proprio dell'imperatore cioè un tale Lorenzo a risolvere la questione a favore di papa Simmaco sarà Teodorico il quale lo appoggerà lo farà diventare papa anche per evitare qualunque possibile scontro con i vescovi italiani che già non lo apprezzavano tantissimo dato che lui era ariano come buona parte dei goti e il risultato sarà che sul trono di San Pietro sulla cattedra di San Pietro siederà un papa anche in questo caso in opposizione ad Anastasio insomma dal punto di vista religioso la situazione continuerà ad essere molto 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 accesa tutto questo mettiamo insieme tutto quello che abbiamo raccontato sull'amministrazione del nostro Anastasio si tramuterà in tanti problemi soprattutto a Costantinopoli Costantinopoli lo abbiamo detto era in quegli anni divisa in due grandi fazioni che prendevano il nome dalle fazioni all'interno del circo da una parte c'erano i verdi e dall'altra c'erano gli azzurri ora i verdi dal punto di vista religioso erano molto spesso monofisiti e in più erano principalmente espressione della borghesia gli azzurri invece erano ortodossi ed erano invece espressione della nobiltà inutile che vi faccia notare che da una parte abbiamo dei monofisiti che dal punto di vista economico erano stati avvantaggiati dalle nuove regole dalle nuove leggi emanate da Anastasio dall'altra avevamo invece degli ortodossi che essendo i nobili principali proprietari terrieri erano stati svantaggiati dalle nuove regole economiche imposte da Anastasio e questo portava a dire che l'imperatore si appoggiasse per gestire il potere a Costantinopoli proprio sulla fazione dei verdi in quell'epoca però queste due fazioni stavano raggiungendo il loro acme dal punto di vista politico lo raggiungeranno poi sotto il dominio dell'imperatore Giustiniano fino alla famosa rivolta di Nica di cui abbiamo già parlato in una vecchia pillola ma già all'epoca di Anastasio erano importantissime e lo scontro tra queste due fazioni e il favore che Anastasio sembrava dare verso i verdi porteranno a tantissime rivolte all'interno di Costantinopoli che provocheranno danni alla città causeranno incendi e addirittura ad un certo punto porteranno Anastasio a dover scendere all'interno dell'ippodromo levarsi la corona e chiedere se la folla volesse che lui abdicasse al trono pronto a farlo per riportare la pace ovvio che si trattava solo di una butade e nessuno gli chiese di rinunciare al trono ma riuscì in qualche modo a calmare la folla in questo clima di incertezza negli ultimi anni di regno di Anastasio scoppiò la rivolta più importante tra quelle che piagarono il suo regno cioè la rivolta di Vitaliano ora Vitaliano era un comandante romano della zona balcanica il quale aveva un grosso appoggio da parte dei soldati molti dei quali lo seguivano ma non ricopriva una carica di particolare prestigio perché teoricamente Magister Militum della Tracia e quindi con il comando sulla zona balcanica era il nipote di Anastasio cioè Ipazio bene nel 513 dopo Cristo Vitaliano alla guida delle sue truppe decise di ribellarsi contro l'imperatore le motivazioni ufficiali che vennero adotte furono quelle religiose Vitaliano era ortodosso e disse di voler difendere il credo ortodosso da ciò che Anastasio stava facendo secondo altri la motivazione era invece di tipo economico perché le nuove regole sulla nona avevano sì imposto maggiori tasse ai proprietari terrieri ma avevano anche impedito agli eserciti che si nutrivano anche requisendo cibo proprio da quei proprietari di poter ottenere una parte dei loro guadagni secondo altri Vitaliano invece voleva semplicemente prendere il potere e approfittare di questo periodo di caos per cercare di diventare o capo indiscusso della zona balcanica o addirittura imperatore fatto sta che nel 513 d.C. Vitaliano si ribellò e l'anno successivo nel 514 Anastasio mandò contro di lui proprio Ipazio il quale però ancora una volta si dimostrò un pessimo comandante venne tradito dalle sue stesse truppe e addirittura venne catturato da Vitaliano che lo rilascerà solo dopo un lauto riscatto l'anno successivo con Vitaliano che ormai aveva preso il potere di tutta la zona della traccia verso la Grecia e così via l'anno successivo nel 515 Anastasio gli manderà contro un altro esercito comandato da un certo Cirillo il quale però farà una figura anche peggiore perché verrà sorpreso dalle truppe di Vitaliano mentre si trovava nel suo accampamento si dice in compagnia di due concubine e sarà anche lui catturato con il risultato che Vitaliano a questo punto potrà marciare verso Costantinopoli e l'unico modo che Anastasio troverà per poterlo fermare sarà dargli il titolo di Magister Militum per la traccia la cosa però pare che non fosse riuscita a quietare Vitaliano il quale due anni più tardi deciderà nuovamente di marciare verso Costantinopoli mettendo in crisi le difese di Anastasio che non troverà l'appoggio dei suoi generali e che avrà l'unico appoggio da parte della flotta che comandata da un amministratore peraltro anche lui monofisita quindi non da un militare di carriera chiamato Marino di Siria riuscirà ad affrontare la flotta di Vitaliano all'interno del Corno d'Oro quindi a pochissimi chilometri da Costantinopoli e riuscirà a sconfiggerla pare utilizzando della pece in una specie di antenato del fuoco greco che sarà poi utilizzato dai romani di lì a qualche secolo grazie a questa tattica riuscirà a distruggere la flotta di Vitaliano e in questo modo a salvare Costantinopoli costringendo Vitaliano a tornare indietro e a rientrare nei suoi possedimenti nei Balcani nonostante questa sconfitta però Vitaliano non si diede per vinto e quando nel 518 dopo Cristo ormai quasi novantenne Anastasio morì ancora controllava con i suoi uomini la parte più occidentale dell'impero Anastasio però intanto era morto era già morta prima di lui Ariadne quindi ormai la dinastia che era stata di Leone si era completamente interrotta ma soprattutto non c'era un diretto discendente chi scegliere a questo punto chi fare come nuovo imperatore bene secondo una leggenda pochi giorni prima di morire volendo scegliere un proprio successore il nostro Anastasio aveva pensato di far sì che fosse il caso a scegliere aveva preparato tre divani di fronte a lui aveva fatto mettere un biglietto con ovviamente scritto imperatore sotto uno di questi divani e aveva chiamato i suoi tre nipoti Ipazio Pompeo e Provo la sua idea era molto semplice affidarsi al caso affidarsi alla volontà divina chi dei tre si sarebbe seduto sul divano con il biglietto sarebbe diventato un nuovo imperatore il problema è che nessuno dei tre si sedette su quel divano perché uno si sedette su un divano e gli altri due si sedettero invece sullo stesso secondo qualche male lingua perché pare che fossero amanti ovviamente non due fratelli ma due cugini il risultato fu che uno dei divani quello che conteneva proprio il biglietto rimase senza un occupante e così dopo aver congedato i tre nipoti che in effetti alla sua morte non si trovavano a Costantinopoli forse questo gli impedì di prendere potere decise che chi il giorno dopo sarebbe entrato per primo nelle sue stanze dalla sua porta sarebbe stato il suo successore e chi entrò per primo nelle sue stanze e beh lo scopriremo nella prossima puntata tenete conto che ovviamente tutto questo è una leggenda creata a posteriori ma all'epoca veniva raccontato il motivo per cui dopo la sua morte sarà sostituito da un uomo molto molto diverso da lui e ovviamente molto più complesso ma lo scopriremo nella prossima puntata una puntata che è molto importante perché ci fa lasciare il periodo della dinastia di Leone anche se come abbiamo visto non era esattamente una dinastia legatissima dal punto di vista di sangue e ci fa entrare in una dinastia decisamente diversa e più conosciuta cioè la dinastia di Giustiniano ma non sarà Giustiniano il prossimo imperatore lo vedremo nella prossima puntata ad ogni modo io mi fermo qua come avevo annunciato di cose da dire su Anastasio ce ne erano molte dopotutto ha avuto un regno veramente molto lungo spero di essere riuscito a sintetizzarvela al meglio c'erano in effetti tanti nomi tanti argomenti ma secondo me erano belli da trattare anche per notare come in questo periodo anche quello che rimane dell'impero romano l'impero romano d'oriente unico impero stia conoscendo una continua evoluzione una delle cose secondo me più importanti di questa serie di imperatore cercare di capire che non esistono dei momenti chiusi all'interno dell'impero romano quello classico la crisi del terzo secolo l'impero di costantino poi l'impero bizantino e così via ma c'è una continua evoluzione un tentativo di adattarsi al mutare dei tempi al mutare delle condizioni che fa cambiare l'impero dal punto di vista militare economico sociale politico religioso e così via ma altri cambiamenti li vedremo nelle prossime puntate ad ogni modo io mi fermo qua come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati patreon e a chi fa donazioni sul conto paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi lasciatemi ringraziare FSGR che insomma questo è il tuo nick ti ringrazio veramente tantissimo grazie per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidole di storia ci vediamo tra una settimana per andare avanti con imperatore se sarà un anno pieno di imperatori e andremo veramente tanto avanti nella storia di Roma a presto ciao ciao ciao